Questa prevaricazione del Governo sul Parlamento e ci impegneremo tra i cittadini perché con la forza della partecipazione popolare si possa restituire centralità, dignità e autonomia al Parlamento. Viva la Costituzione! Grazie, deputato da Torre. E adesso è scritto a parlare il deputato Renato Brunetta. Prego, onorevole Brunetta. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori Ministri, noi diciamo no a questa riforma della Costituzione per ragioni che riguardano anzitutto il cuore stesso della nostra democrazia. Il Governo Renzi, che si è intestato questo orrore, ha usato la Costituzione contro se stessa. Ha usato il voto di parlamentari che hanno...